E' polemica sulla paventata chiusura del centro di urno di via Vespuccia a Pescara. A sollevare la questione Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carozzine Determinate, sostenuto tra gli altri anche dal sindaco Masci e dal segretario di rifondazione comunista Cerbo. Ferrante in una nota afferma, forse più di qualcuno non ha capito che il Covid-19 ha provocato un vero e proprio tsunami per la salute mentale. Di certo la risposta non è quella di chiudere il centro di urno integrato di via Vespuccia a Pescara. Sembrerebbe, prosegue Ferrante, che dal 31 maggio cessi ogni speranza per la sopravvivenza di questo centro, che ha svolto una funzione importante di vera e propria inclusione sociale, migliorando la qualità della vita dei pazienti. Evidentemente per la regione Abruzzo e l'Asla di Pescara tutto questo, prosegue il presidente di Carozzine Determinate, non conta. E come si fa con i pacchi, le persone possono essere dislocate, spostate, trasferite ovunque, senza tenere in considerazione i sentimenti, le emozioni, le ansie, le paure, le preoccupazioni e la loro vita. Persone invisibili che non possono difendersi e che non riescono a comprendere come le istituzioni si dimostrano così ciniche e spietate. Avere un centro all'interno della città, scrive ancora Ferrante, in un luogo centrale, e anche e soprattutto un valore aggiunto, perché in genere queste strutture sono nascoste quando va bene, in periferie, emarginate dalla collettività. Ci saremo aspettati l'ampliamento dei servizi territoriali, con una migliore assistenza sanitaria integrata, finalizzata alla cura, all'inclusione sociale e lavorativa, basata proprio sul principio del rispetto della dignità della persona. Oggi è il centro integrato ad essere chiuso, domani cos'altro? Si chiede Ferrante. Non ci piace questa scelta, non ci piace questo clima, non vorremmo che fosse l'inizio della fine, che invece di implementare servizi e strutture, si cancelli quel poco di buono che si è costruito nel corso degli anni. A noi non risulta che questa sia una decisione della magistratura, conclude. Pertanto chiediamo che l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri smentisca la chiusura del centro integrato di Via Vespucci, chiarisca con urgenza tutta la situazione, convoche un tavolo regionale con le associazioni, perché è arrivato il momento di occuparsi seriamente della programmazione che riguarda la salute mentale e che metta al centro l'essere umano, conclude la nota con tutte le sue debolezze e fragilità.